Il Gal Prealpi e Dolomiti sbarca su Instagram. Il gruppo Azione Locale da qualche settimana ha intrapreso una nuova avventura online creando una propria pagina sul popolare social network per dare voce ai giovani imprenditori locali e alle loro storie. Un nuovo canale digitale pensato per narrare un racconto corale dell'intero territorio, pillole che illustrano lo sviluppo rurale della provincia di Belluno che continua senza sosta anche in epoca Covid. Abbiamo attivato un nostro canale Instagram e su questo canale da ormai sei settimane stiamo pubblicando diverse storie di resistenza e di resilienza anche al Covid e quello che ne è uscito è il quadro di una provincia e di un territorio del Gal molto forte, molto attivo e che ha voglia di rimettersi in gioco. Il settore turistico come sappiamo tutti è quello che ha subito maggiormente gli effetti negativi però dal nostro punto di vista specialmente in questo periodo vediamo che c'è tanta voglia di stare all'era aperta, c'è tanta voglia di avere grandi spazi e noi come provincia di Belluno e in particolare come territorio del Gal Prealpi e Dolomiti possiamo dire ancora molto. Latteria Valmorel, Cantina Pian delle Vette, il Cantiere della Provvidenza, le Regole dell'Alpago, i soggetti che raccontano le proprie storie parlano di un territorio che ha voglia di crescere e di non restare indietro ma c'è spazio anche per alcune innovative iniziative imprenditoriali. Nel mondo imprenditoriale c'è un piccolo agriturismo che si è inventato siccome non aveva abbastanza posti di dare una coperta e praticamente un cestino da dare ai propri clienti così questi insomma potevano mettersi fuori e estendersi all'aria aperta senza nessun problema di assembramento.